Benvenuti al TG7 Basilicata. Oggi tra le ore 12 e 13 e 30 le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Montalbano e Tinchi del Comando di Matera con il supporto degli specializzati dei nuclei fluviali di Matera e Potenza sono intervenute rispettivamente in località Marone e Contrada Madonnella e entrambi nel comune di Torsi per soccorrere 5 persone impossibilitate ad uscire dal letto del fiume Agri il cui livello si è improvvisamente alzato. In località Marone due agricoltori padre e figlio di Marconia di Pisticci che assistevano 150 capi di bovini hanno tentato di mettersi in salvo cercando rifugio sui rami di un albero. Invece in Contrada Madonnella tre agricoltori uno di 31 anni residenti a Sant'Arcangelo uno di 48 residenti a Novasiri ed uno di 27 anni residenti a Crispiano hanno atteso i soccorsi salendo sulla cappotta del trattore con cui stavano lavorando. I cinque malcapitati scossi ma in buone condizioni di salute al momento del loro salvataggio sono stati tratti in salvo anche grazie al supporto degli operatori del nucleo elicotteristi di Bari. Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Arrivederci.